Oggi, 20 febbraio 2019, inizia seriamente il cammino in Champions League per la Juventus. Non vedo l'ora di guardare la partita questa sera contro l'Atletico Madrid al Vanda Metropolitano, stadio della finale. Ora però dovrei tirarmi su da letto e andare a lavorare. L'idea è un po' questa, no? Raccontarvi la mia giornata tramite tante brevi clip fino ad arrivare a questa sera della partita dove vorrei portarvi la live reaction. Secondo me è un ottimo modo per raccontarvi la partita in un modo inedito, speciale e originale. Lei è mia sorella Sara, ma ha dei poteri magici, sa in anteprime i risultati delle partite. Come finisce la Juve questa sera? Ma cos'è? Dai! No, perché sono... Usa i tuoi poteri! C'è la partita? Atletico Madrid Juve, come finisce? 2-1 Per? Per la Juve. Che bella è! Che bella è! Arrivata ieri con ancora il cartellino. Non glielo tolgo. Non ti dico che non le uso più a fare allenamento le maglie della Juve, con quel che costano. Poi la lavatrice, l'asciugatrice, si rovinano. Signori miei, è arrivato il giorno, voglio il vostro pronostico qui. Bravo, bravo, mi piace. Questa mentalità è la mia, però io voglio sapere il pronostico dagli altri. Io sicuramente... Shhh, non sto zitto, non dico niente. Ti dico 0 a 0, marcatore nessuno. Sono in pausa pranzo, sono le 12.35, mi sono messo a computer per iniziare a editare questo video, ma la tensione, la tensione sta iniziando a salire. La sento è concreta e viva. Questo è il mio collega Fabio, tifa per l'Inter. Cosa ne pensi di Atletico Madrid Juventus? Beh, sono sicuro che la Juve sta prendendo le misure per lo stadio della finale, quindi... Quindi è già sicura la finale. Sicuramente, sì. E come finisce la finale? La finale finisce 2-1. Per? Vabbè. Questo è il mio collega Marco. Non segue il calcio, ma per qualche motivo simpatizza il Napoli. Come finirà questa sera Atletico Madrid Juventus? 5 a 6, palla al centro. 5 a 6, palla al centro. Un pronostico tutto suo. Thomas, pallone nel ruolo. No! Sì! Siamo ancora con l'Ivola! Luca, ti è piaciuta la Juve stasera? Fa merda. E a Marco è piaciuta la Juve stasera? Poco. E alla Signora Negra è piaciuta la Juve stasera? Fa merda la Juve. Ma tu non sai niente. Ma la Juve fa sempre merda. Un commento a caldo? Basta che non lo condividi perché... Non lo faccio più un video del genere se deve finire così la partita. Non lo faccio più. No.